BT Technic, qualità nella produzione e nel servizio. Brian Tubi produce e commercializza tubi in acciaio con superficie cromata, nichelata, ottonata, rivestite in PVC, verniciata, zincata, gambi in acciaio per tavoli, supporti accessori per tubi di varie dimensioni e nelle rispettive finiture. I prodotti trovano impiego nell'industria del mobile, nella ferramenta e nel fai-da-te. Figurano nel settore arredo e complementi per l'arredo come sottopensili per la cucina, colonne per cucina e bagno, aste per tendaggi, nonché per gli impieghi in altri settori. La Brian Tubi vanta una gamma completa di prodotti con un alto livello di qualità. Si avvale di uno staff specializzato che rende i prodotti Brian Tubi apprezzati da una clientela distribuita in oltre 40 paesi del mondo. Siamo in via Mozart 47 a Orsenigo, in provincia di Como. Per informazioni, telefonate allo 031 63 14 99 o scriveteci un'email a mail-briantubi.com o scriveteci un'email a mail-briantubi.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!